Oggi giochiamo con un po' di mazzi nostalgici, però, attenzione, nei mazzi di oggi c'è stata una piccola modifica. Il formato GOT ha delle carte veramente troppo forti che sbilanciano questo formato, di cui non puoi fare a meno, fan parte del formato, lo definiscono anche come formato nel formato di POT Charity 2 della famosa Trinità e del BLS. In questi mazzi non ci saranno, alla fine sono mazzi meme, adesso è divertente, non voglio che queste partite vengano rovinate da magie troppo forti, quindi quelle tre magie sono state rimosse. Signor Jacopo, buon pomeriggio, la nostra cavia, che sta per subire il trauma di giocare questi sei mazzi, e iniziamo a vedere questi sei mazzi che vi propongo. Primo mazzo, gli XYZ, ecco qua, molti si ricorderanno questi robottoni, perché creano i Megazord, non so se a te Jacopo piaceva nei tempi. Il Power Rangers l'ho visti 46.000. Perfetto, i Megazord sono veramente fighi, ovviamente ragazzi fanno schifo, e fusioni stesse fanno molto più schifo di quello che sembra. Questo archetipo fa schifo, però in questi duelli meme che facciamo io e Jacopo lo possiamo anche giocare, ecco. Secondo mazzo di eroele elementali. Allora, non ci sono Boosting Antix Evion perché mi rifiuto categoricamente fare un mazzo con Boosting Antix Evion, sono veramente... cioè non si possono giocare. Almeno Clayman e Sparkman hanno un minimo di decenza. Clayman è un 2000 di difesa, giallone ma almeno qualcosa la tiene, tipo la versione brutta della spia custodia di tombe. E Sparkman è veramente brutto per lui, ma è un luce. Abbiamo invece una fusione molto forte che è Thunder Giant, è molto molto forte come fusione, possiamo dirlo. Tu puoi scartare una carta dalla mano e spacchi un mostro che abbia l'attacco minore dell'attacco regina di Thunder Giant. Cioè, terzo mazzo, abbiamo il mazzo fuoco che gioca Inokagutsuji e Yamata Dragon, due mostri spirit che se fanno danno all'avversario, hanno due effetti molto forti. Il primo scarta tutte le carte in mano all'avversario e lo manda al top deck. Il secondo ti fa pescare fino ad aver cinque carte. Poi la Fenice gioca carte, i mostri fuoco che valgono come doppio tributo, i Flame Ruler con Ufotart. L'ultimo mazzo abbiamo Emissario dell'aldilà che se viene mandato al cimitero, dal terreno, fai aggiungere ad entrambi i giocatori un mostro giallo di livello 3 o inferiore. Spesso lo fa soltanto per te perché è difficile che gli altri giochi non mostri giallo di livello 3 inferiore. Apera Sonica è il mostro con attacco più alto, ben 1.700 giallone, oppure un soldato di pietra con 1.300-2.000. Mazzo molto aggressivo, Gorilla, insomma, mazzo molto aggro. C'abbiamo doppio skill drain perché alla fine, tolto Tribe e Breaker, non abbiamo altri effetti da attivare sul terreno. Ma attenzione, c'è un cambio veroso di side, dove di side potete trasformare il mazzo da un mazzo aggressivo a un mazzo stall. Mettere dentro i pezzi di Exodia, mettere dentro i parini, i vari Floodgate, e sfruttare così l'Emissario che anziché prenderti Paupera Sonica, ti prende i pezzi di Exodia. Poi abbiamo questo qua che è un mazzo Water Control con una componente di Dinosauri, abbiamo i due Dark Drisseratops, la carta preferita da Hasselberry, e un Black Tyranno che è un bidone atomico. L'idea di questo mazzo è quello di usare Pillola dell'Ultra Evoluzione per tributare un rettile, spesso il Serpente, ma abbiamo anche altri rettili che giochiamo, per evocare uno di questi e attaccare. Ultimo mazzo, un Clown Contro speziato, che gioca i Clown, che quando cambiano posizione fanno robe, Goblin Attack Force, si basa ovviamente su Stumbling, che cambia posizione di difesa a tutti i mostri che vengono evocati, il turno in cui vengono evocati, quindi oltre a stallare e dar fastidio all'avversario, ci fa scombare con i nostri Clown, nonché 3x0 Gravity, che cambia la posizione di tutti i mostri sul campo, Labyrintho dell'Incubo e Tragedia. Signor Jacopo, quale deck hai scelto? Dinosauri! Jacopo sceglie il mazzo dinosauri, molto molto bene, però io non vedo come posso esimermi dallo scegliere il mazzo ero elementale, direi che è abbastanza chiara la collo. Bene Jacopo, è ora di partire. Cosa ho già ricche, cosa scegli? Uff, porca miseria, stavolta non puoi vincere. Nooo, che forza. E invece? To the paper, va bene, va bene. Bisogna essere decisi. Bello sapere che non c'è Pot Charity 2. Classica giocata. T-set pass. Grande T-set, va bene. Stand by. Main. Io qua mi sa che ti faccio un bel forza esiliata. Prio. Nessun problema. Serpent in Princess. Spicy. Allora faccio così e passo. E allora io ti dico, ti dico, ti dico, madre grizzly. Va bene, lo accettiamo. Non ha paura di picchiare. 1.400 li prendo. Mmm, cosa facciamo qua? Eh, mi sa che devo fare così. Porca miseria, meno male e madrizi non è acqua. Tribe. Io qua faccio Prio. Chiaro. Yes. East Warrior. Ci saluta. Allora, cosa avrei settato? Saranno le famose capre? Vediamo un po' se ci sono le capre lì. Basta tornato. In cateno. Porca miseria, che forte. Va bene. Decreto reale. 1.6. Molto forte, complimenti. Adesso qua arriva la giocata forte. La giocata forte è... 1.900. 1.900. Va bene. Per lo 300. Allora, allora, allora. Conoscendo il tuo deck, ci può essere settato qualcosa che non puoi usare adesso. C'è poche carte in mano, Fijonghette. Non mi preoccupa, ma sì, facciamo... Togliamo subito... Tifone. Tifone spaziale mistico. Su decreto reale. E allora passiamo. Poi non fare. Niente. Stand by main. Porca miseria, questo è forte. Zombira. Ti attacco. Quindi me prendo 500. Ti prendo 500. 1.900. 1.900. Molto forte per tirare come muro da stallo. Tu lo tieni in genere in attacco contro i mazzi aggressivi. Ovviamente, in quanto 2.100 è vocabile così, deve avere dei drawback. Non può attaccare diretto. E ogni volta che distrugge un mostro in battaglia... Bang! Porca miseria che tu... Vabbè, c'è un mazzo fortissimo. Posso far nulla a riguardo. Il resto l'ho montato io. Modestia. Modestia, sì. Chissà che carta sarà quella. Dovrebbe essere qualsiasi cosa. Eh, io penso sia a Serpentine Princess. Però potrebbe anche essere Mother Grizz. E la fine qual è la differenza? Nessuna. Povera e pazienza. Evoco Sanghan. Va benissimo. E passo così. Allora, il Sanghanone. Siamo in uno svantaggio carte. Purtroppo da un pescato male. Sono disposto a sacrificare la mia madre Grizzly. Orca miseria. Oh, il Triceratopo. Fortissimo. Via. Ci prendiamo un 500. Direi che va bene così. Yes. Attenzione. Allora, situazione attuale. Qui è forte. 2004. Sanghan, metterlo in difesa, non mi serve a niente. Quindi mi sa che qua devo pazientare e passare. Io lo ripicchio. Ecco, mi prendo 1.4. Adesso attivo l'effetto. Vediamo cosa abbiamo. A prenderci. Che tristezza. Che tristezza. Abbiamo soltanto tristezza da queste parti. Ecco cosa ci prendiamo. Questa forza esiliata. Già usata. Inizia a pesare. Sa che tocca far così. Ok. Una bella D di Warrior Lady. O così o così. Direi che va bene così, dai. La situazione è brutta. Qua mi sa che devo far così. Provare anche a picchiare. Ti dico che va bene. Va bene. 900. Finish. Passerò così. I ragazzi continuano a picchiare. Eh sì. Ah. Mi hai picchiato. Qualcosa sulla summon? No. Allora picchio. Prendo 1.800. C'ha certi ciccioni sto mazzo. Eh. Vorrei poter dire lo stesso del figlio. Mamma mia che abominio. Tempesta. Capro. Va bene, va bene. Era da fare questa cosa. Se no qua ci prendiamo un bel po' di dannetti nei denti. Allora. La situazione qual è? Che io mi schianto con Kiko. Ecco quella situazione. Prego. E faccio così e passo. Qua arriva la giocata forte. Impossibile. Prendo il mio 1.800. Io non posso far niente perché c'ho solenne e di conseguenza non fa assolutamente niente. Poi puoi armi da e poi sì. E poi mi picchi. E poi mi picchi. Va bene, va bene. È tua. So già cosa mettere contro il tuo mazzo. La cosa migliore da fare sembra togliere tutto l'engine degli elementali. Però mi sembra un po' eccessivo, capito? Non bisogna snaturare il deck. No. 1, 2, 3, 4. Qua voglio mettere dentro potenzialmente 6 carte. Porca in sera che schifo sto mazzo. Faccio anche così mi sa. Così tolgo troppa roba. Con cosa attacca? Eh, c'è un piccolo problema. No, questo lo tengo. Questo lo tengo. Dai, provo a fare così. Un po' una pazzia. Let's go. Terebbe da togliere altre roba, però volevo comunque, come dire, non snaturare il mazzo almeno possibile, ecco. Passaggio. Dunque, dunque, dunque. Signor Tegame, se vai in stand by vorrei fare una cosa. Prego. Una bella trappola botola. Eh, dai, però. Io manco ce l'ho la botola dentro, me ne so. Ah. Minchia, qua pillola dell'ultraevoluzione è tosta, eh. Perché c'hai due cose lì. Ma potresti fare la pazzia Serpentine Princess, pillola dell'ultraevoluzione. Eh, in realtà è fortissima sta cosa, ora che ci penso, eh. Cosa? C'è cattivo sto tricerato. Qualcosa dice che toglierò la Serpentine Princess, caro Jacopo. Mainman, settato, rosso come una casa. Stand by main. Io conosco la tua situazione, quindi posso iniziare a mettere un po' di pressures. Stiamo con un bel breaker, il guerriero magico. Yes. Nobile uomo dello scambios. Eh, sì. La mamma grizzly. 1.9 diretti. Sono tanti. Fai pensare alle carte che hai. Qua potrebbero succedere delle macumbe strane, non so se fare sta cosa. Vabbè, lo faccio. Va bene, prego. Grizz è andata via. Ok. Non puoi nulla contro i me. Forza esiliata. Ci saluta. La Yomi Ship. Sapevo che era lei. 1.9. Prego. Lì mi sa che sono delle caprette, o come questa impressione. Mi pensavo un attimo. Va bene, va bene. Stand by main. Oppure potrebbe essere un bait, una mirror forse potrebbe essere. Io non ho motivo di non spaccartela, anche se sono delle capre. Un cadeno. Ok. 1.6. 1.600 a testa. Non hai giocato mostri qua, eh. Quindi immagino tu non ne abbia. Lo facciamo o non lo facciamo? Non lo facciamo. Passo. Un po' di carte settate. And by main. Oh minchia, questo fa male. Il Donza. Ti attacco. Penso. Eh, dubito che passi. Penso. Solenne. Prendo questi 1.4. Sì. Scarto una carta dalla mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Questa. Porca miseria che forte che era questa. Passaggio. Formal. È entrato, sì. Passaggio. Aha. Stand by main. Ma tu non puoi nulla contro Smashing Round. Ma vabbè. O era questo, o era qualcos'altro. Attacco. D'incibacco. Ult e gambe ha perso. Alla prossima. 1 a 1. Si vengono ancora pescati un Thunder Dragon in tutto ciò. Ma che è? Cioè, pensa che in due partite non ho pescato. Devo rinforzare esercito in un Thunder Dragon. Che sono a 2 e a 3. Vabbè, provo così sti cazzi. Non sdaturiamo. Game 3. Dunque, dunque, dunque. Thunder Dragon. La combo. Allora, adesso c'è da pensare. Evoco Tribe. Attacco. 400 a te. Urca. Ok, ok. La Nintendo Switch. Va bene. Allora. Hai un po' di carte coperte. Il Sanghan ci dà un po' fastidio. Beh, non particolarmente, però. Pochino sì, in realtà. Quanti target hai? Beh, ne hai diversi, il Sanghan. Tanto picchiare o picchiare, se no. Mino molto. 600. Ci prendiamo, ci prendiamo. Passo. Bisogna giocare con cautela qua. Io ho finito. Giocare con cautela. No. Paghi 800. Paghi 800. Basta per arrivare nei denti, mi sa, il Dark Triceratop. Te piace Rez? Peggio del Dark Triceratop. Porca miseria. Il Black Tiranno. Va bene, c'è. È entrato. Bang. Non era meglio attaccare con gli altri due per fare più danno? Non ci avevo pensato. Va bene. Ma vuoi mettere i danni morali? Hai ragione, hai ragione. E adesso... Fusion Gate. Dichiaro l'effetto. Ecco qua. Entra in campo. Queen Head e Thunder Dragon. 2800 d'attacco. Cosa? Io sono pazzo. Eh, sono tanti. Fammi contare un attimo. No, contare in che senso? Vabbè, ma io con sto mazzo devo mettere pressione. Se no, che cazzo faccio? Rubo. Eh, sono tanti. Sanghan. Attacco con tutto. Mi sa che rimani con 200. Passo. L'avevo contato bene. Prenditi 1000 adesso. Non potevo non essere così aggressivo, ragazzi. Come potete ben capire. Vabbè. La mossa è l'obbligo. Metamorfosi, certo. Ok. Immagino il target sia Twin Headed. Eh sì. Te lo poccio. Va bene. Io direi che ti picchio il ciccione. Prendo 200. E ti dico che... And vai. Main. Smashing round. Attacco 1000. Va bene. Stato un po' sfortunato. Meno male che ti ho ammazzato il ciccione prima. Tanto io qua c'ho due rinforzi d'esercito, ma questi rinforzi mi sa che non arrivano oggi, vai. And faccio the green. Non faccio l'effetto del serpente. Va bene. Faccio salvage. Nel senso. Io direi che... Prendiamo 400 qua. Effetto di Sanghan. Cavoli, che poi è 1400, quindi sei preciso preciso per non morire da Lady. Si è avuto 1000 e 3 eri nei guai adesso. Qui facciamo così. Ti prego, dammi una carta. Mamma mia che schifezza. Attacco. Vuoi bandire? No, non voglio bandire, sei basso. Oh, adesso si ragiona. Io non sto... Però questo aiuta. Quello aiuta, sì. Tolgo il fusion gate. No! Come ti sei permesso? Adesso ti basta un mostro. Effetto. Vento per me. Prego. Non so perché sei bandito face down, ma va bene. Va bene, va bene. Sappiamo che è lui. Ti prego, dammi una carta giocabile. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Potessero le capre, quindi non mi faccio fregare. Però Sasuke. Dai, vediamo se ci sono ste capre. Attacco. Hick. Hai chiesto se ci sono le capre? Ci sono? Non ci sono. Non ci sono le capre e l'abbiamo fatta. Potevo evocare effettivamente Sparkman, sarebbe stato più epico. La prossima facciamo due mazzi casuali. Random number generator, allora. Deck numero uno, XYZ. Deck numero due, fuoco. Deck numero tre, emissario che passa ad aggro Exodia. Deck numero quattro, clown controllo pazzo. Il deck che userà Jacopo sarà il seguente. Andiamo su random number generator, eccolo tutto in live. Generate. Tre. Caro Jacopo, giocherai Sonic Duck. Ok, va bene. Vediamo quale gioco io se esce. Tre ritiro. Uno. Ma dai, un altro. Ma non è possibile ancora. Ma un altro mazzo con Return. Vabbè, dai, ci sta, è carino. Mazzo Return contro mazzo Kill Drain. Andiamo. Ah! Non mi faccio fregare stavolta. Non mi faccio fregare. Car miseria. Ah! No! Lo sapevo! Lo sentivo, lo sentivo. Ineluttabile. Per quello preferisco il dado, almeno non devo pensare. Allora. Il mio extra deck sono i mostri XYZ sulle fusioni. Una peggio dell'altra. Setto una. E vado proprio in questo. Il ciccione. Porca la miseria. Io direi che vado di Uga Booga. Uga Booga? Haha! Shining Angel. Aspetta, fammi vedere cosa mi conviene fare. Magari mi posso... Posso prendere uno di quei due bidoni. Cercare di capire un attimo qual è la scelta giusta. Ho deciso cosa prenderò. Zeta! Uno dei bidoni. Metal Tank, un bidone. E' molto minaccioso. Se si equipaggio fa guagnare 600 attacco e difesa. Un millotti venterebbe un 2004. Sì. Non lo posso permettere. No! Ma perché? Maledizione. Prego. Eh. Oh, questo è interessante. Pasù! Perdi in cibacco. Eh sì. Faccio effetto. Eh sì. Divento un 2200. Attacco il gorilla. Gorilla ci saluta. Molto bene. Passo. Dico che setto una può andare. Avevo molta povera di skill drain, lo ammetto. Stand by main. Lui torna alle sue statistiche. Mostro coperto potrebbe essere un pomodoro, potrebbe essere. Provo a evocare X testa cannone. Eh, la mia lettura era giusta. Eh sì. Il soldato! No! Prendo 400. Passo. Allora, allora, allora. Direi che facciamo. Normal di breaker. Porca miseria, sì. Picchio questo bazzucco. No! No! Prendo 300. Dico che mi sta bene così. Yes. Ho capito. Allora vuoi le botte. Allora te la sei proprio cercata. Jinzo! Eh no, Jinzo no. Ah, 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 ah. Peccati questo. 500. È arrivato. È arrivato Jinzo. A te. Il soldato di Jinzo è impaurito adesso. È proprio una carta fortissima. Sarebbe un peccato. No! Porca miseria. Va bene. È effettivamente una carta fortissima. È lui. Prendo tutto. 3.400. Il soldato no, non hai gridato. Eh no, così tanto no. Tutto ha un limite. Più mille. La situazione è tragica. Evoco X testa cannone. E fino a qui ci siamo. Attacco. 800. E aggiungo. Aggiungo, aggiungo. New Dory. E in due setto una carta potentissima e passo. Setto una carta potentissima. Sì. Io ero con normal papera sonica. No! Ok, c'è papera sonica. Poi ti dico che la tua misera rimozione di limite non mi spaventa. Perché scarto... Porca miseria. ...un'altra papera sonica. Porca miseria, che forte è questa mossa. È game? Questi sono tutti. Dimmi la verità, c'avevi l'uomo in mano? No. Ah, potrò fare una cosa forte. Va bene. Ok. Vabbè. Strap a partita. Ora bisogna leggere la call del tegame. Cosa farà? Farà fuori un Exodia pazzo? In realtà sto mazzo è così bello che non mi verrebbe di stare a cambiare troppa roba. Lui mi va bene. Lui mi va bene. Dai, mi sa che farò così. Va bene. Ci proviamo. Mmm. Passaggio. Un po' di carte. Tu mi facessi così, no? Degessi che ti picchio questa decoici. Porfinjar. Come la mettiamo? Potrebbe essere un problema. Guarda qui cosa è scartato. E questo è un bel vantaggio carta a casa mia. Allora, allora, allora. Finché vero che è brutta stare su un pomodoro. Vabbè. Ora, tu hai scartato la testa. Micchia, se scartavi la testa, il mostro reincarnato era finita. Meno male non ce l'avevo. Sì, quello sì. Quella era veramente finita. Ro, stand by. Allora, allora, allora. Io con in totale tranquillità continuo ad essere tranquillo, però. Ma io questo sanga lo tiro giù. Va bene. Ti dico che picchio col pomodoro. È l'altra. Spacca tutti i mostri sul terreno. Si billano cinque carte. Flash banish five. Vabbè, se c'hai reincarnato è finita. Beh, no, no, ti vanno in mano, eh. Tutte le carte? Allora, i mostri di livello 4 o inferiore, i vocabili, li puoi evocare o scoperti in attacco o coperti in difesa. Mentre ci tutte le altre carte vanno in mano. Sono release. Poteva essere un problema. È andato a puttare. Il gorillo deve attaccare per forza. Allora. Allora, penso. Non ho mirror. E allora ci picchia in allegria. Vendo 3200. Mainface 2. Sì. In testa potente. 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 Solenne. Mi va benissimo. Faccio anche spade rivelatrici. Va bene. Ok, stand by main. Allora, attimo che controllo le mie 700 carte con in mano per valutare un attimo il da farsi. La situazione non è facile come sembra, ti dirò. Solo release per quell'exodia è spicy, devo dire. C'avrei qualche pezzo pattume in mano? Avrei pescato con la morphing su via? Mi sa che faccio così. Prio, faccio gorillone. Bestia. Ci saluto. Poi faccio anche così. Spellcaster. Ci saluto. E poi faccio così. E in Prio... Abbiamo pescato benino, devo dire. Oh, con 80 carte ci avrò delle carte per togliere le tue, no? Eh, mi piacerebbe dire lo stesso, ma... Chissà cos'è pescato, sono curioso. Lo tiriamo a sto solo release per togliere la testa? Penso che non avrò altre chance per farti questo... Ma sì! Allora, sta carta qua bandisce fino a 5 carte nei cimiteri. Lui ci saluta. È che potrebbe dar fastidio. Lui ci saluta. Lui ci saluta. Poi facciamo anche così. Mi serve un'altra roba. Io c'ho già un sacco di gente bandita. Cioè, mi sembra un po' ripetitivo. Vai, tiriamo via più roba dal tuo cimitero che dal mio. Attaccare non posso attaccare. Mi limiterò a fare così e a passare. Qui è il solenne. Uff. Sei pallato, ok. Un turno di spade. Dunque, dunque, dunque. Sperai che faccio... Norma Salmon emissario. E... Lo hai fatto. C'ho anche Fulmine Voltex. Porca miseria. Vero che c'è il tifone, non sono stato attento. Morti. Battle Phase. Sì. Penso. Devo pensare attentamente a questa cosa. Se prendo 1.6, vado a 800. Vado a 800. Questa cosa non è bellissima. Prendo 1.6, va bene. Preo. Ok, 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 ok. Adesso si ragiona. Ora ragioniamo. Fammi pensare cosa puoi avere tu lì lì coperto che mi dà fastidio. Qua mi sa, caro Tegame, che ci saluterai. Ho come questa impressione. Speriamo di no. Dipende sempre da cosa hai settato. Tempesta potente. Va bene. Chain or Return. Va bene. Se mi arriva un torrenziale. No. Ok. No, non può arrivare. Hai fatto Tempesta. Hai ragione, hai ragione. Questo diventa un 2005. Poi facciamo anche così e così. Eeeh, vabbè. Eeeh. Questi diventano dei 7200 a test. E dici, Jacopo, è finita la partita? Eeeh... Ecco, dipende esattamente. Eh, allora sì. È stato un buon abuso questo, sì. Normal, prego. Vai bene a pregare. X testa cannone. 600 per me. Eeeh. Aggiungo, mi aggiungo, mi aggiungo. Stiamo ancora a pezzi exodia o papere. Una mano sinistra. Attenzione, ha mantenuto. Siamo a contare. Prendo mi... Ok. Qua mi sa che arriva exodia, ragazzi. Se tutto ti va abbastanza bene con sto mazzo perché non gioca le dashut. Poi non c'è duo, quindi proprio... Ma qua qual è la situazione? La situazione è che potrebbe essere un floodgate quello. Vediamo un po' con Sanghan cosa ne pensi. Va bene. Penso, anzi. Fammi un po' covalutare qui. Mandi tutto al cimitero. Però con Sanghan più uno. Ma sai che ti dico? Io lo solenno. Devo mettere pressione qua. Contro sto exodia. 2008. Perché se no mi faccio prendere, inizio a piazzare robe, non va bene. Attivo l'effetto. Eh, qua, Romio, arriva una bella lady. Ce lo immaginavamo. Allora, senza troppi... 100 a te. Mi prendo 100. E 1.800 a te. Wiii. Prego. Dunque, dunque, dunque. Mi fa brutto. Mi fa un po' brutto. Ah, mi scatto sofferenza. Sì, un bel pezzo di exodia. Dichiaro macchina. Ok. Li abbiamo presi. Dico, è pao 800. Porca miseria, va bene. 800 per il tegame. È ancora un Mazzexodia. Aspetta, scusami, scusami, scusami. Sull'attivazione. Faccio così. Buone, ok, ok. E allora è ancora un Mazzexodia. Sì, sì. Prendi gli 800 però. Che saranno decisivi questi 800, forse. Ok. Stand by e main. Quella potrebbe essere una sakuretsu. Potrebbe essere un torrenziale, un ring. Potrebbe essere tantissime cose. Qua la situazione è dura. Wangu. Provo ad attaccare. Prendi 100. Prendi 100. Soprattutto counter anche i pomodori, la Wangu. Scorrente una carta non male. Pickers! Entra. Picchio. Li prendo. Mface 2. Mface. Attenzione. Stand by main. Non hai voluto spaccare. Forse hai paura di un'altra Wangu. Vuoi tenerti un 1.9 in attacco. Eh, la situazione qua è dura. Mirror forse è andata. Non sono messo tanto bene, purtroppo. È troppo rischioso. Devo farlo. Evoco dei coici. Penso aver capito quello che sta per arrivare. Vabbè. Attacco. Bene. Fai qualcosa? No. In damage. Ok, quindi è un 2.8. Prendo... 900. 900. Non ho finito! Ritorno! Eh, ce l'hai. Attacco con la Lady. Dai, però sono partito troppo male. Sono partito con due pezzi in mano. E quelli gialli, se no era forte. No, mi bastava un pezzo e poi te rivocavo questo, però non potevo scartare i pezzi. Che partita, ragazzi. Abbiamo un po' di tempo per fare l'ultima best of three. Ultimi due mazzi, raga. Clown contro fuoco. Caro Jacopo, scegli testa o croce? Se esce testa, io gioco fuoco. Se esce croce, io gioco clown. È uscito croce. Quindi io gioco i clown. Gioco i clown. Sei felice, Jacopo? No, io ancora non ci credo che esista una carta che si chiama clown stupido. Va bene. Venga, non posso perdere. Ho detto che non posso perdere. Ah! Ho detto che non posso perdere. Ho detto che non posso perdere. Ah, non ce la posso fare. I mind game del tegame. In realtà sta stream sniperando, ragazzi. Non credetegli. Potrebbe essere una qualsiasi trappola, un bait. Non lo so. Scopriamo. Stand by main. Tartaruga. È proprio lei. Attacco. 1.4. Main 2, setto anch'io una carta e passo. Stand by face. Sì. Main face. Tempesta. Purca. Attenzione. Attenzione! Stand by. Main face. Che ci sia un giudizio è chiaro. Però io non vedo perché non attaccarti qua. La tartaruga ti saluta. Addio tartaruga va bene. Allora qua facciamo così e passiamo. E poi. Che neanche questo? Ci sei cascato nel mio tranello. Allora io ti dico. Orca miseria. Di questo idranello. Aia. 2.300 fa malissimo. Setto 1. Puoi andare. Draw. Stand by. Pago 800. È tornata la tartaruga. È tornata la tartaruga. Proprio lei. Però sono abbastanza sicuro che c'è una carta che farei fatica a contrastare. Vediamo un po' se entra l'evocazione di mano di Neptis. Tu puoi attivare l'effetto imbrio no? Se entra l'evocazione sì. Non mi entra. All'altro poi se la distruggo so cavoli. Sì. Attacco. Facciamo un po' così. Porca miseria. 1.400 ci prendiamo. La situazione è che se adesso me lo giri in attacco di cui un altro ho perso. Quindi mi sa proprio che tirò il pugno per terra. Possa del pugno. L'hai tirato. Eccolo qui. Porca miseria. C'è. Dico che picchio. Riprendo. Dico che attivo anche stumbling. Va bene. Complimenti. Una bella mossa devo dire. Io qua setterò uno e passerò. Ma ci vuoi sapere che cosa sia quello. Allora, allora, allora. I clowns. Quello che fai l'attacco a difesa distrugge un mostro che l'avversario controlla. Sembra molto forte. Entra l'evocazione. Entra. Perché se entra, questo va in difesa. Se attiva l'effetto, lo distrugge questa giara. Ah no. Questo non lo posso ancora spostare, no? Devo aspettare la prossima. La cosa bella è che se io te lo rubo con un sdaccio adesso posso spostarlo. Caro tegame, sei caduto la mia trappola. Fulmine Voltex. Se ne vanno. Ma c'è qualcosa? Che questo stumbling è sempre lì. È pronto. C'è un mostro. Questa se ne va. C'era un mostro. Perché ricca? Come ben sai. No! Siamo molto forti. Porca miseria. Ma che mostro poi, cavolo. Che top deck hai tirato. Mi serve qualcosa qua. Devo ammettere la mia sconfitta, purtroppo. Sono 1200 precisi, tra l'altro, questi. Eh, qua la Fenice era devastante. Ah, comunque è un deck veramente fastidioso. Bisogna trovare... Però, minchia, il tomazzo in realtà mi dà molto fastidio. Perché io, se non ho roba per toglierti le back row, io ho i no kagutsuchi e company, non te li posso fare. Proverò così. Devo un po'. Può avere un senso. Let's go. Allora. Passaggio. Stamber face. Certo. Ti dico che... Vediamo se ci saluta. La spia. Una tasteruga. My body. Paga 1.500. La qualità si paga. Faccio così. Stumbling. Allora. Stand by main. Allora. Quello potrebbe essere un clown, potrebbe essere un ratto. Tifone spaziale mistico. Ci saluta. Passi un artegame. Mi dispiace dirtelo. I no kagutsuchi. Non fa piercing, però no. Ora sì. Eh. Ora sì. Attacco. Oh, meno... Esseremo un ratto potevo essere nei guai. Non te prendo 1.800. 1.800 ti prendi. Quindi poi scarto tutto. Esatto. Io va di Nend. Questa va al cimitero. Lui torna in mano. Scarto tutto così per comunità. Abbiamo fatto la combo. Che male. Che male. Stand by main. Io evoco una bella wangu. Attacco. Ah, nel dubbio. Mi sa che come fa lo subito. Senza che mi prendo troppi schiaffi. Oh. No. Maggio che gran carta. Flame ruler. Come? Perché vedo Mobius? Anch'io vedo Mobius. No, aspetta. Aspetta. No, aspetta. Interrompiamo. Cos'è successo? Io vedo Mobius evocato normal sul tuo terreno. Cioè, adesso sta in mano. Ma no. Era un flame ruler. La chat è testimone. È un flame ruler. Ma nel momento in cui è entrato in campo si è trasformato in un Mobius. Il log dice. Eh, ma è impossibile. Che il mio avversario è evocato un Mobius defrost. Hai ragione a te. È un Mobius. Però io l'ho visto come flame ruler fino dall'inizio. Cioè, è un po' un problema. Sì, però. Allora. È Mobius. Ma. Sì. E' un'altra carta questa. Tu cosa vedi? Vedo un tronade con zero attacco e zero difesta. Chi è questo? E quello lì era un altro Mobius. Vabbè, allora. Sì, ho capito. Ma io come posso giocare se non so che carta ho in mano? Cioè, capite che è un po' un problema? Se io non so che carta ho in mano, non posso scoprirlo quando le gioco. Questo è lui. Ok. Poi, ecco. Io tipo gen tronade. Io l'ho evocato perché in mano mia vedevo un mostro. Quindi me l'ha messo anche tra i mostri. Io vedevo Mobius. Setto una carta. Passo. Vediamo. E poi cado un Mobius. Chissà che in teoria è call. Tu lo vedi come un call? Sì, sì, sì. Bene. Allora. Capite, io però ho giocato in un certo modo. E io non so più. Devi stare all'erta, devi stare. Io non so se fidarmi delle carte che setto. Cioè, immagina tipo setto, tributo torrenziale, evocchio, un mostro, ceno e tifone spaziale mistico. Chissà se i mostri che sto vedendo sono effettivamente loro. Lo scopriremo solo vivendo. Io lo faccio così, ecco, prego. Stand by, main. Aha! Ora vediamo se questa è veramente la spia. Ok, è lei, meno male. Proprio lei. Va, signor Tegame. Ho paura che... Direi è una cosa molto cattiva, lo sai. Ino Kaguzuchi! Eh già. Sei convinto che succeda una cosa cattiva? E invece la side è pronta! La side era pronta. Non ci posso credere. Almeno tu vedi le carte... Pensa, se tu eri convinto di avere il corrivo in mano, poi attivi... Eh no, mi dispiace, è il clown stupido. Comoda quando tu vedi le carte che effettivamente è in mano. Sono capaci tutti così. Gioca con le carte che si trasformano quando le muovi. Bang! Oh, il clown stupido c'è davvero. L'hai chiamato ed è arrivato. Riflesso. Addio clown stupido. Si è il clown stupido. Stumbling. Non potrei nulla contro questa combo. And... Porca miseria. Il clown stupido. Va bene, entra. Ah! E va anche in difesa. Beh, ma io direi... Ah! In mano. Ah! 1350. Invincibile questo clown stupido. È molto clown e molto stupido. Pensi che sia finita qui? Ma io non penso. Perché dove c'è un clown stupido c'è anche un clown col naso. Che tragedia. Il clown dei sogni. Entra! Entra, entra. Entra! Ah, guarda qui la side. Alla cosa buona è che non hai voluto mettere il crascalone in difesa. Altrimenti sarebbe stata una tragedia. Vabbè che è settato potreste avere altro, effettivamente. La mia speranza è questa. Salvo impreviste. Mi ho chiaro detto, ho pedecato una roba fortissima. Non dovresti riuscire a rimuovermi questo facilmente. Almeno con gli effetti. Che mattoni. Sto pescando. Ah, niente. Io mi sa che ho perso. Tributo. È lui? Ah, è proprio Mobius. Penso cosa spaccare. Sicuramente questa, se no ho perso. E poi, boh, stumbling. Ci salutano. Questa è l'unica cosa che posso fare. E passo. Oh, sì. Lo picchio così. Io qua ho solo una speranza. Emo cospia. Va bene. Bang shot. Ok. Diventa 1600. Attacco. Ma no, dai. Non mi sembra il caso. Di critoriale. Eh, questo potrebbe essere problematico. Quattro sminchia. Se arrivava solenne qua, ero veramente nella merda. Ok. E direi che ci proviamo. Non potevo far prima perché era il Mobius. Ah, giusto, giusto. Fatto male, scartà sto santo. Non un mostro, non un mostro. O me si vedono i veri campioni. No, no, no. Main face. Main face. Main face. Ah, quindi? Non c'ho un cazzo. Vabbè. Però non vale. Io non posso giocare con delle carte che non so cosa siano, però, eh. Facciamo la terza giusto perché sta partita era un po' particolare. È stato un po' ingiusta. È impossibile vincere quattro mesi. Non lo so. Ma è anche al dado, in realtà. L'occhio mi ha sempre male. Così, ecco. Io dico che faccio così. L'hai fatto. Stand by. Main. Se la mettiamo così. Ai, 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 ai. Eh, dai, sono troppi. Ai, 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 ai. Non me lo posso permettere. Big bang shot. Vabbè. Trunade. Perché non ho altre carte giocare. E dai. C'è una grande giocata. Quindi ho bestato quattro, tu tre. Unico mostro che non potevo carpe, scato di tutto il mazzo. Tartaruga. Sium. Che male. Ok, ok, ok. A questo punto, penso, farò così e passerò. Sono veramente tante, tante carte. Sarà un clown stupido? Proviamo ad attaccare. Proprio lui. È lui, il clown stupido. Invincibile. Passo. Faccio così. Ok. Stumbling. Passo, va bene. Oh, qua già ragioniamo. Porca miseria, va in difesa. In difesa, sì, sì. Ti dico che può andare così. Ok. Pensiamo. Un stupido è bello fastidioso. Però il ratto ancora di più. Mi sa che farò questa mossa qui. Sto per fare la mossa, eh. True nade. True nade, true nade, true nade. Ti dico che è in cateno. Zero gravity. Va bene. Mi torna in mano la tartaruga perché quelli vanno in attacco. Ok, molto bene. A questo punto, facciamo così. Ci salutano. Eh, sì. Tartarugo. Millequattro di rette. Passo. Eh, ok. Allora. Sarà un altro clown stupido quello? Io penso farò così. C'è? C'è, c'è, c'è. E allora faccio prio. E arriva. Inimitabile fenice sacra di Nethys. Questo rimane. Attacco. Mi saluda. Urca. Utilissima adesso. Eh. C'è, è lui. Beh, io proverò ad attaccare. Ne vado, però ho le mie condizioni. Ah. Ah, ah, ah. È questa la fine, purtroppo. Oggi, dai, comunque belle sfide, tutto sommato. Ah, sì, sì, sì. Questo è lo Yu-Gi-Oh vero. No, come quello moderno. Non si capisce niente. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.